Nuovo colpo alla tabaccheria sotto i portici di via Panfiglia, a Ravenna. Stesso modus operandi delle precedenti spaccate notturne. Nel cuore della notte due o tre persone utilizzando un portabicicletta hanno sfondato la vetrata e una volta entrati hanno rubato i pacchetti di sigarette presenti nell'espositore. Terzo furto in pochi mesi, il primo inizio maggio, il secondo a fine luglio, questa notte il terzo colpo. Non c'è nulla da dire, ha commentato la titolare della tabaccheria, comprensibilmente turbata. Aspettiamo ora di vedere le immagini delle telecamere di videosorveglianza, ma probabilmente sono sempre gli stessi malviventi delle volte precedenti.